E ciao a tutti ragazzi, io sono MakerNinja e oggi siamo su un gioco chiamato T-Tiner Sentivo parlare a Fred, là c'è Fredbeer, chi non sapesse E poi ci sarà Fred Vabbè, iniziamo subito Posso fare la seconda? No, è bloccata la seconda notte, quindi dobbiamo fare la prima notte E' un gioco che l'ho scaricato da GameJolt, un sito su Google Cioè, prima di tutto ho cambiato Facecam perché Quella Pia, quella sfera mi sembrava più tonne Ecco, quello è, quello è Sotterasa e Fredbeer E quel coniglio E questo coniglio sarebbe Spixbone, quindi ora Fred, Fredbeer Giorgio e ciao Aspetta, che significa Bezo Cioè, devo mettermi qua perché vedi... Che cos'è? Iiiiihihi Iiiinn Sì Che? Che? Esatto Io mi nascondo perchè ho paura Io mi nascondo perchè ho paura Io mi nascondo perchè ho paura Ho visto Devi stare in sinto Sono gioco marzo Non mi nascondo Non mi nascondo Non mi nascondo Dai fammi lo jumpscare L'ora di mattina Ciao speaker boni Me lo fai tu jumpscare l'oltre Perchè Io non ho Fred per essere tu E' colpa del fungal E' colpa del fungal Il fungal No il fungal No Colpa tua Mi ha distratto Riproviamo la prima notte perchè Allora mo la metto qua perchè Non ce la faccio Stai da cuccia Stai da cuccia Stai da cuccia Stai da cuccia Non No Ma Prado Fredbeer Fredbeer Posso Buona di mattina No, non posso accucciare il fungai No, ha riafrido Te ne vai dalla mia vita, grazie Oh, le Che cosa ho messo NAGMAR Non l'avete visto, l'avete visto L'avete visto, l'avete visto L'avete visto NAGMAR L'avete visto NAGMAR Perché lui non la potrebbe si Si No, il ventilatore no Il ventilatore V7 Non è che devo fare questo Non l'avete visto L'avete visto L'avete visto Non si vede Non si vede Non è che devo scegliere tutte le volte quelle cose No, capito niente No, capito niente Non è che devo andare Ma anche devo andare Che c'è questo Su Youtube Quindi ragazzi Io sono NAGMAR Ninja E avete visto Il primo episodio di DINER Il Quindi ragazzi Da NAGMAR Ninja Tutto Un bel Jobscare a tutti Ragazzi Ciao Ciao